Abbiamo davanti a noi una sfida molto impegnativa e difficile che parte innanzitutto dall'essere in grado di tornare a far rivivere la politica tra la gente, a far essere la politica parte integrante della nostra comunità. Lo ha detto il consigliere regionale di Forza Italia, Francesco Cupparo, successivamente nominato assessore alle attività produttive, nel corso del dibattito in aula dopo l'elezione del presidente del Consiglio regionale. I territori, ha aggiunto, dovranno tornare a recitare il ruolo di protagonisti assoluti sulla scena politica regionale. Dovranno autodeterminarsi, partendo dal basso, su tutte le scelte di campo programmatiche. La programmazione dovrà essere un esercizio nel quale noi dovremo essere solo coordinatori e garanti delle scelte che i singoli territori e i sindaci che rappresentano le singole comunità dovranno fare per il loro futuro. Auspico che questo consiglio, ha concluso, possa essere in grado di dare tempestivamente le risposte che i cittadini lucani pretendono da moltissimo tempo e che non possono più essere rinviate.